Sicuramente una persona con cui riuscirei a passare il tempo. Secondo me lui è molto bravo a letto, mi ispira queste vibes. Mi piace anche il gelato al cioccolato. Adesso qui con me vediamo come andrà. Una piscina a sfioro e un picnic in terrazza a vista mare li aspettano. Che figo! Ma dove siamo? Madonna! No vabbè! Ma fioro! Ma va, ma è stato scoperto! Grazie per aver preparato tutto. Allora, ci ho messo tutto me stesso, spero che apprezzerai. Ok, questo è il primo approccio per conoscerci e niente. Non dovevi, guarda. Just enjoy it. Allora, ti faccio subito un test. Il test del vino. Devi sapere aprire una bottiglia. Puoi decidere se sciabolarla, però non c'è il cocktail adatto. Che è la cosa più facile, penso? Spero di non fallire questo test, che sennò cominciamo malissimo, giusto? Sì, molto male. Cecilia ci piace, è una ragazza simpatica, ha molta la mano. Sicuramente è una persona con cui riuscirei a passare il tempo. Non mi mettere fretta, un passo per volta. Dai, fratello, la tua donna ha sete. No worries, adesso la idratiamo per bene. Guarda qua. Wow. Easy. Dai, c'è il tuo calice. Ok. Promosso, promosso. Promosso? Sì. Quindi il primo step l'ho superato? Sì. Guarda, ti guardo pure mentre lo verso. Adesso la lo verso. Approvato. Sincero, io ti dico, ho messo gli occhi su uno. Chi? Manuel. Ah, lo sapevo. Lo sai? Mi ha un po' impassidito perché, come ho detto io, sono una persona a cui non piace essere secondo a nessuno. Comunque sia, adesso è qui con me, vediamo come andrà. Dicci un po', cos'altro ti piace? Il gelato. Gusto? Gusto preferito? Odio, a me piacciono tutti i gusti di frutta. Io da quando sono piccola prendo sempre fragole a limone. Ok. Vabbè, il limone sta bene sempre. Sì. O no? Non solo il frutto. Mi piace anche il gelato al cioccolato. La ragazza sta attiva, devo dire. Con la risottina lì che vai. Ok. Shish. Shish. E come puoi dire, damn, come puoi dire, cavolo. Tu sei una che preferisce un uomo predominante o preferisci essere tu quella predominante? Preferisco fartelo scoprire in un'altra sede. Shish. Secondo me lui è molto bravo, Letto. Mi ispira queste vibes. Tu hai finito la bottiglia comunque, eh. Andiamo avanti così e la bottiglia l'hai finita e l'hai finita da sola ed hai spaccato con questo, eh. Sciotta quello, sciottalo per bene. È stato piacevole. Molto. Ti alzi pure da sola, non ti devo neanche aiutare, è meglio di così. Non ancora. Self-made. Cecilia sembra aver conquistato Giampaolo, ma non è l'unica ad aver fatto centro. Iscriviti per la mia 순uera. Grazie.